Buongiorno, sono svegliato praticamente adesso, sto prendendo colazione con un caffè, basta Allora, oggi c'è stata una live, oggi mi hanno, ieri sera sul Tarty, cioè ieri sera mi hanno detto Sto sedendo sul letto, che adesso sta facendo una roba in cucina, non voglio disturbare Mi hanno detto che c'è stato, da Gamescom era la possibilità che uscisse un annuncio di un nuovo mostro Non c'è stato, però c'è stato un altro annuncio da parte di Capcom Oggi pomeriggio alle 2, alle 2 dovrebbe essere il tutorial nostro quindi Uscirà l'ultima diary dell'ultimo update con l'ultimo mostro Ripeto l'ultimo e sottolino ultimo perché sarà da questo che si è letto l'ultima roba che metteranno E non ci saranno più update probabilmente Ora da vedere che sia veramente così o no, sappiamo tutti poi tra l'altro che un mostro metteranno, non lo so Comunque, la mia attenzione, voglio provarci almeno a fare una live dove vedo Io mi vedo, mentre sto vedendo questa cosa, commento in live L'unica cosa che è probabile che, primo non regalo la mia connessione perché come già vede non la posso fare tranquillamente la live adesso Seconda cosa Cioè praticamente, loro dicono alle 2, però è capace che per noi la live inizierà tipo alle 2 e mezza perché l'ultima volta hanno fatto 40 minuti di pre-live per 20 minuti di parlata Io non so bene, comunque state sintetizzati per le 2 sul canale di Twitch Non so se inizierà le 2 precise e la live mia sarà già attiva Inventerò, proverò a fare il trucchetto di usare la sessione offline per evitare di crashare, però vediamo E niente Questo è da dirvi quindi, in caso ci sarà una live mia Se piaceremo a fare questa live, beh altrimenti vedrete un video più avanti Di questa cosa, che parleremo dell'ultimo update perché a quanto pare La fine è vicina Speravo di avere più tempo Speravo di avere più tempo